Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi come individuare il vostro sottotono in modo semplice ed efficace per tutte. Se fate un giro sul web troverete tantissimi trucchetti interessanti come quello della collana d'oro e d'argento, quello della maglietta o addirittura quello delle vene. Ma a mio parere tutti questi giochetti confondono solo le idee. Voglio quindi mostrarvi il mio metodo, veloce, efficace e valido per tutte, non potete davvero sbagliare. Quindi per sapere vedere come fare, cliccate su riquadro che vi rimanda al video tutorial completo, che è questo dove ho scritto il mio metodo facile e infallibile, cliccate lì. Mi raccomando, individuare il vostro sottotono è davvero molto molto importante, non solo per la scelta del fondotinta, ma anche per capire quali colori vi stanno meglio. Spero come al solito che il video vi sia utile e vi invito a iscrivervi al mio canale, a cliccare mi piace e a guardare anche i video precedenti. Vi mando un bacio, ciao! Grazie!